Marketers Academy è un progetto fantastico che unisce l'energia, l'entusiasmo che caratterizza il Marketers Club alle esigenze che hanno le aziende, quindi di competenze e di professionalità. Una finestra sul mondo reale e vero ossigeno per i nuovi laureati che vogliono fondare la propria vita sull'innovazione e sulla strategia. È l'occasione per trovarsi il sabato, condividere l'esperienza del quotidiano con un confronto appunto con ragazzi che stanno vivendo esperienze simili. Mi porta a casa una grande esperienza. Non c'è altra formazione migliore. Meglio di così non poteva andare. Alla grande.